Proviamo a dare una mossa, una scossa a questa situazione. Partiamo dal 7 di aprile, giovedì, faremo l'orario continuato, le attività del centro storico. Cercheremo di offrire un servizio in più, in particolar modo ai turisti, che da aprile iniziano ad essere numerosi nel nostro territorio. Giovedì, in collaborazione anche col mercato settimanale, offriremo questo servizio continuativo ai nostri utenti. È rivolto naturalmente anche alla clientela normale, perché c'è la pausa pranzo, quindi un'occasione in più per svolgere delle commissioni. Quindi vi aspettiamo da giovedì 7 aprile, orario continuato dalle 10 alle 19, di tutte le attività commerciali del centro storico. Intanto partiamo questi tre mesi, anche per vedere la sperimentazione, perché per le aziende piccole del centro è uno sforzo importante, perché sono realtà piccole, familiari, con pochi indipendenti, quindi è uno sforzo in più, ma proprio per dare un messaggio ben preciso. Noi ci siamo, siamo pronti a collaborare, vogliamo far vivere i nostri centri storici, cerchiamo di offrire delle offerte che possano portare la clientela a fruire in modo maggiore i nostri centri storici.